Allora, la cosa interessante di questa chitarra, di cui si è detto è il primo prodotto con elettronica attiva andato sul mercato, è proprio la circuitazione. Una cosa bizzarra è lo switch che ha le posizioni del pick up al ponte e di quella invertita dei due pick up assieme, cioè nell'estremo in basso sono i due pick up assieme e nella posizione a metà è solo il pick up al ponte. Quindi questo è al manico, questo abbiamo detto è al ponte e questo è i due assieme. Poi l'altra cosa interessante, anzi direi la cosa veramente interessante, è il circuito attivo alimentato da queste due batterie da 9 volt, perché evidentemente c'era poca efficienza a quell'epoca, in cui il controllo di tono in realtà è un parametrico che incrementa o decrementa alcune frequenze, non tutte, cercando di simulare, come dicono i manuali dell'epoca, che poi si possono leggere perché li abbiamo linkati nella prova e sul sito e sulla rivista chitarre, vanno a simulare strumenti con pick up single coil o unbucking, loro ti danno una serie di istruzioni, di posizioni con cui puoi evitare la Gibson, la Fender, le cose naturalmente fanno un po' ridere, ma diciamo che la tavolozza sonora che si può tenere agendo su qualcosa lì è interessante. Quindi adesso è al centro, lo chiudiamo, lo apriamo completamente e qui al 5, cioè in posizione media la chitarra ha la risposta mia. Ultima caratteristica molto anni 70 è questo switchettino che addirittura permetteva di simulare il suono dei pick up in controfase portando dei tagli sulle frequenze medie, è incredibile, cioè il suono controfase che non interessa più a nessuno, anzi forse non interessava neanche allora, però era diventato una cosa che faceva parte del gioco e quindi ci hanno messo uno switch che con un'equalizzazione particolare appunto che taglia le frequenze medie riesce a simulare il controfase. ecco le ritmi che fa anche chi sono proprio il suo terreno di battaglia, è una cosa così pittoresca, è interessante. Tiriamo le somme. Tiriamo le somme, 2 più 2? 4. 4, perfetto. Tiriamo le somme è secondo me uno strumento molto divertente, tra l'altro dà un'impressione di qualità, non certo di economico, cioè si capisce che era un tentativo di fare qualcosa di nuovo, di farlo anche bene perché sono bei materiali, un bel ponte, sono anche i pick up, adesso stiamo giocando. Diciamo che è tutto molto ben fatto, la linea del corpo è tutto ben studiato, è tutto pensato, ci si vede la creatività di Ovation di quegli anni, creatività che poi in alcuni casi ha dato, ha portato a prodotti che hanno trovato un loro spazio sul mercato come le acustiche invece ad altri che come in questo caso sono stati dei flop, ma come ha detto giustamente Kamann, il problema di questa chitarra non è che le mancasse qualche cosa, in realtà ha tutto, le mancava solo quel non so che che fa la chitarra di successo. Sì, probabilmente in quel momento negli anni 70 non era un tipo di oggetto che poteva battere la concorrenza di Fender o di Gibson, in quel periodo anche qualche Yamaha cominciava a farsi vedere, erano comunque simili, alla fine era simile la Yamaha che usava Santana, era simile la Gibson, non era il momento per chitarre particolari che poco più tardi avrebbero colpito il mercato con più efficacia. Diciamo, diamo un ultimo concetto, questa chitarra secondo me si può iscrivere a tutti gli effetti nella categoria degli strumenti vintage, ma di quei vintage però alla portata di tutti. Oggi senza voler fare cifre che sono sempre soprattutto in Italia molto ballerine, diciamo che è uno strumento che si colloca in una fascia di prezzo analoga a quella della produzione Fender messicana o comunque orientale di Estremo Oriente di buona qualità, quindi insomma in una fascia che gira attorno ai 1000-1200 Euro di valutazione. Ed è comodissima da tenere da seduti soprattutto e fatta apposta perché la forma della chitarra è esattamente quella, è bilanciata, comoda, è bilanciata. Quindi, che possiamo dire? L'abbiamo detta.